Antonio Tellini, vicepresidente del Rugby Mantua, una nuova stagione al Via per i Biancorossi. Gli obiettivi del settore giovanile per la prossima stagione, Antonio? Allora, quest'anno abbiamo sicuramente un team di tecnici, inteso come allenatori e preparatori atletici, di primo ordine e quindi l'obiettivo assolutamente è di rafforzare tutto il settore dall'Under 6, quindi i mini rugby, Under 10, 12, 14 fino anche alla 18 con l'obiettivo di incrementare in quantità e qualità gli atleti giocatori che vengono al nostro campo. Ci sarà un'ottima grossa, un recurso ad attività nelle scuole e anche stiamo studiando eventi particolari al campo. Una considerazione anche sulla prima squadra, rinnovata rispetto alla passata stagione a livello di primo 15 e a livello anche di staff tecnico, gli obiettivi di questa stagione? Gli obiettivi sono quelli di fare un campionato buono, sostanzialmente toglierci delle soddisfazioni, crescere, abbiamo un impianto di gioco molto interessante, chiediamo ovviamente ai ragazzi di essere molto bene preparati fisicamente, ma sicuramente la squadra è rigiovanita e quindi questo si potrà sicuramente fare. Io penso che faremo un campionato di buon livello, la rosa è, come dico, composta soprattutto da ragazzi giovani e quindi sicuramente ci faremo ben valere in un girone e tengo a dire che nel panorama italiano del nord è probabilmente più competitivo, quindi questo ci deve essere da stimolo.